Ciao sono Sharon da Papido.it e Joint e questo venerdì per tutto il popolo della notte la destinazione è Movida un clima caldo che va dal classico pub irlandese alla tranquillità del proprio salotto fino all'atmosfera decisamente zen un insalito insieme di stili che è da 1990 milanese Accompagnati da musica hip hop e R&B ci immergiamo nell'atmosfera underground del venerdì lunedì al desaltro una location multietnica ricca di performance live di gruppi pop emergenti esibizioni di breakdance in un clima di vero street style ma basta parlare andiamo a ballare ma come cazzo stai ma perché lo fai è una vita che mi chiedo come mai che poi lo fai o ci sei anyway ma come cazzo stai ah 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 la ora che le mail pare su pare su parenti impara ma che palle con le fiche due di picche con due righe riesci a metterle ora due righe le si scrivono per te e di modelle di valette un po' di foto nel cervello di festine e parti le vendo a chi e faccio anche i miliardi guarda buona domenica la tipa è fine e bella ieri sembrava la sua bella fine da barella ancora al naso tutto sporco di merda ora ne parla male parla che il suo compagno deve farla ridere e a me fa ridere lei e mi fa ridere lui ma come ca ma come ca ma come cazzo stai ci tira la bianca e poi la rinnega la tigio ma come cazzo stai mi sposa donne carica tra bine ma come cazzo stai ci tira la bianca e poi la te la